Adeguamento degli impianti alla struttura di tiro a volo o la torretta a Pagani. Nuove macchine e nuovo look per la struttura per rendere l'impianto più vicino alle esigenze dei tiratori. Ieri mattina l'inaugurazione della nuova veste dell'impianto a passo con i tempi e che attira sportivi da tutta la regione ed offre ogni comfort a chi coltiva questa passione ma anche ai tiratori professionisti. Un vero punto di riferimento del tiro a volo campano gestito con abnegazione e professionalità. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS